ma ora in onda tutti i figli di Campanaro con Giovanni Maffrici il nostro speciale legato alle elezioni del basket perché sabato si vota abbiamo già ascoltato l'avvocato Massimiliano Serrao abbiamo già ascoltato l'ingegnero Gianniere Franco e dall'altra parte del vetro è venuto a trovarci il candidato consigliere Valerio Chinè buongiorno Valerio buongiorno con Valerio ci siamo interfacciati molto spesso parlando di pallaganesto parlando di viola ma parlando anche di questo movimento perché questa candidatura Valerio chiaramente è una candidatura che non è nata spontanea nel senso che io sono stato interpellato dal candidato presidente Paolo Suracek persona che io stimo dal punto di vista cestistico per averla avuto prima ad avversario per averlo osservato da dirigente e per conoscendone comunque l'indole di una persona seria sicuramente un giovane dotato di grande entusiasmo ed è quello quello che serve alla pallaganesto. Penso che già con questa parola giovane si sia già esaltato Paolo ci sta ascoltando interverrà tra qualche minuto anche lui. Per cui quando mi ha chiesto la disponibilità a dare una mano a dare un supporto lo sai sono tra quelli che preferisce sempre agire anziché solo stare a parlare o criticare e quindi ho dato la mia disponibilità nel limite della del mio impegno della mia passione che ci possa mettere magari mettendo un qualcosa di mio che possa essere proficuo per la causa del momento calabresi. Certo ho chiesto io al candidato a presidente ho chiesto due tre cose. Innanzitutto deve essere un consiglio federale o un consiglio di FIP che possa assolutamente invertire la rotta, debba invertire la rotta, debba innestare un processo di cambiamento radicale senza nulla togliere a chi ci ha preceduto che ha fatto davvero un grande e un enorme lavoro in tutti questi anni però la pallacanestro il movimento è solo dopo le società perché ricordiamoci che alla base ci sono i fruitori che sono i mini cestisti o i cestisti e più tutti gli appassionati che seguono questo sport in Calabria hanno bisogno di un'inversione di marcia di un'inversione di tendenza e quindi in tal senso metto tutto il mio entusiasmo e le mie energie per poter dare una mano poi con estrema umiltà se non saremo capaci ci faremo da parte non c'è nessuna velleità individuale anzi assolutamente. Io penso che il ruolo di Valerio Chinè all'interno di questo consiglio fatto di quattro candidati operativi sia quello di provare a divulgare questa pallacanestro il più possibile anche perché è riduttivo pensare che in Calabria parla Giovanni, parla Valerio, parlano altri due, tre, basta così. Sì, la comunicazione è importante, oggi probabilmente è il crocevia per tutte le scelte anche apicali, l'importante è che la comunicazione ci sia, comunque che la comunicazione dia seguito a un miglioramento strutturale, strutture, innovazione e comunicazione sicuramente sono tre dei capisaldi del programma a supporto di Paolo Suraci. Ma non è solo questo, c'è soprattutto la voglia di dare un impulso e di creare una concertazione al di là delle due candidature diverse che si stanno confrontando in questo momento preelezioni. L'augurio e l'auspicio è che all'indomani tutti, eletti o non eletti, possano subito rimboccarsi le maniche e dare una mano alla palacanestro. Io personalmente o ci sia all'interno del Consiglio o non ci sia, do sempre il mio contributo, darò sempre la mia mano ed è a disposizione gratuita di tutti perché alla passione diciamo non si comanda. E io sono d'accordissimo con Valerio anche perché molto spesso parlando di elezioni sembra quasi uno scontro Trump-Clinton, no, stiamo parlando di gente che ha voglia di lavorare e che sta già lavorando per questo movimento, non c'è Catanzaro, Cosenza o Reggio Calabria, c'è gente che deve provare a raddrizzare la rotta anche perché rispetto agli anni d'oro, gli anni quando c'erano 30 squadre solamente a Reggio Calabria tra Serie B e Serie D, bisogna cambiare un po' tutto. Sì, ripeto, bisogna iniziare dalla base, andare a rivedere un po' tutti i rivoli dei vari regolamenti e cercare di venire incontro soprattutto a chi investe, non soltanto facendo delle regole anche molto semplici, molto essenziali e che diano la fruibilità anche a chi non ha grandi capitali, ma mettere a disposizione di chi comunque abbia un enorme bagaglio di passione anche dei capitali che possano arrivare dall'esterno, con degli investitori, con dei progetti credibili e soprattutto con un impulso di innovazione di cui la pallacanestro calabrese ha estremo bisogno. Io ringrazio per essere stato con noi Valerio Chinè, grazie mille, adesso continuiamo con questa super carrellata, Valerio ci vediamo alla viola domenica. Assolutamente sì, assolutamente sì. Dovete sapere che io, Valerio e Filippo Lopressi ieri sera siamo stati paparazzati con un pallacanafiore con 6.000 persone dentro, quindi l'auspicio è che queste persone possano venire anche domenica. Ne basterebbero la metà. Sì, mettere la firma, dove si firma? Sì, sì, sì. Grazie mille Valerio Chinè, piccola pausa e poi torniamo tra pochissimo. Tutti i figli di Campanaro con Giovanni Mafrici. Ehi, 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 Campanaro, ah, no, Campanaro, Marco. Ehi, Campanaro, Campo, Campo, non si udimentica mai.